sette famiglie che arrivarono sulla costa tirrenica e dietro vita ad un luogo dove l'identità arbresch è ancora viva da qui parte questa nostra storia falconare albanese resta l'unico paese di origine albanese che si affaccia sul martirreno in calabria la lingua ed il rito greco bizantino restano il baluardo di questa identità in cui storia e attualità continuano a stringersi la mano come l'azzurro del mare lambisce la nostra costa laboriosità ospitalità meraviglia sono gli ingredienti delle giornate che costruiscono la vita quotidiana degli abitanti di questo posto da questo orizzonte interiore ed esteriore costruiamo il presente diventando il futuro per ogni seme del passato che abbiamo coltivato o grazie a tutti grazie a tutti